L'Associazione Italo-Americana di Napoli, American Studies Center, ha celebrato i 60 anni di attività culturali e lo ha fatto con una conferenza internazionale di studi economici che si è tenuta a Villa Doria d'Angri. Il meeting, organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Partenope, ha riunito docenti e ricercatori provenienti dai più prestigiosi atenei internazionali, oltre ad esperti giunti dal Canada, dall'Uruguay, dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Spagna, dalla Francia e dagli Stati Uniti. Nel corso del meeting sono state presentate importanti ricerche sui fattori di lungo periodo che hanno sostenuto lo sviluppo economico, le risorse naturali, i fattori geografici, le istituzioni. Tra i temi al centro del dibattito, il divario tra Nord e Sud, in Italia e negli Stati Uniti. Nel corso dei lavori sono stati illustrati i fattori che hanno determinato tra il 1860 e il 2010 la sostanziale riduzione degli squilibri regionali negli Stati Uniti, a differenza di quanto è accaduto in Italia. Il fermento culturale ha sempre circondato l'Associazione Italo-Americana, fondata nel 1957 con l'obiettivo di promuovere una migliore conoscenza tra i popoli degli Stati Uniti e dell'Italia, come ha spiegato Francesco Cappelli, presidente dell'Associazione American Studies Center. Napoli fu una delle sedi prescelte per la nascita di queste associazioni e tuttora noi svolgiamo questa attività di sviluppo della reciproca conoscenza dalla cultura americana alla cultura italiana, in particolare essendo la nostra sede a Napoli con l'Italia meridionale. In questa ottica stiamo svolgendo una serie di conferenze internazionali a cui vengono invitati studiosi di tutto il mondo, in particolare americani, per approfondire analogie e differenze degli sviluppi, in particolare del sud degli Stati Uniti, col sud Italia. Proseguiremo naturalmente su queste esperienze pensando di fare un'opera utile per la reciproca conoscenza tra gli Stati Uniti, per la cultura statunitense e la cultura italiana.